In questo breve video ripercorreremo le caratteristiche più importanti della poesia religiosa nel 200 all'inizio della letteratura italiana, in particolare affronteremo un autore caratteristico di questo periodo come Jacopone da Todi e la lauda dal suo punto di vista, la lauda come genere letterario. Allora, siamo nel 1200 in Italia, nascono questi famosi ordini mendicanti, cosa sono? Sono confraternite di frati, gruppi di frati che si organizzano con una regola, cioè un modo di vivere preciso, hanno delle regole precise e devono comportarsi in quel modo. Da questi ordini religiosi nasce una grande produzione di testi, cioè scrivono, questi frati scrivono inizialmente in latino, poi piano piano in volgare, e quindi nasce un nuovo genere di poesia, la lauda, che è una preghiera. La preghiera molto spesso è in forma di poesia, anche oggi. La lauda in particolare però è una poesia di lode, quindi di ringraziamento, di esaltazione nei confronti di Dio. Insieme alla lauda nascono laudari, che sono raccolte di laude, quindi antologie di laude, potremmo dire, libri contenenti un certo numero di queste preghiere, e confraternite di laudesi, cioè professionisti, cantanti, cantori, cori, diciamo, di personaggi, figure professionali che si occupavano appunto di cantare. Questo perché? Perché ancora nel 1200 poesia e musica hanno un legame inscindibile, cioè stanno sempre insieme. Che cos'è dunque la lauda? Come è fatta? Perché che cos'è l'abbiamo detto? Ci sono due tipologie di laude, la cosiddetta lauda lirica e la cosiddetta lauda drammatica. La lauda lirica è una poesia scritta a strofe. Ci sono delle strofe in che canta un solista, quindi un solo cantore, e ci sono delle strofe chiamate ritornello, cioè ritornello, che viene cantato dal coro. Questa è la cosiddetta forma responsoriale, cioè risposta. C'è un gruppo che canta, cioè c'è un cantore che canta, un solista che canta, e c'è il gruppo che risponde, quindi risponde responsoriale. La lauda drammatica invece era un tipo di lauda in cui ogni strofa veniva cantata da un personaggio, come se fosse una rappresentazione teatrale, una recita. Ecco, molto semplicemente questa differenziazione. Iago Pondatodi è un personaggio particolarissimo, nasce da famiglia nobile verso la metà del 1200, un po' prima della metà, svolge il mestiere di notaio, quindi una professione da persona ricca, insomma, conduce una vita mondana, cioè piena di feste, di occasioni, di divertimento, ma c'è qualcosa che cambia la sua vita. Una di queste feste, la festa da ballo, crolla un supporto, un balcone, in una terrazza dove la moglie si trovava, la moglie muore, e sotto le vesti della moglie viene scoperto che questa donna indossava un cilicio, che era una specie di cosa che si indossava fatta di materiale abrasivo, fastidioso, provocava dolore, ed era una cosa che si indossava nel Medioevo, una specie di cosa che si metteva sotto i vestiti, nel tentativo di provare un po' di dolore per avere una gloria maggiore nel Regno dei Cieli, era una convinzione medievale, il fatto che la sofferenza in vita portasse a più, una condizione migliore nella vita ultraterrena. Iago Pondatodi rimane colpito da questo fatto e decide di entrare nell'ordine dei frati francescani, quelli fondati appunto da Francesco d'Assisi, questo avviene nel 1278. Iacoponi in particolare aderisce alla corrente più rigorosa, quella degli spirituali che c'era all'interno dell'ordine francescano, era diviso in due, c'erano i conventuali, quelli più tranquilli per così dire, e gli spirituali quelli più intransigenti. E questa scelta, questa convinzione così forte di essere rigoroso, lo porta a essere contrario a Papa Bonifacio VIII, che rappresentava un po' in quegli anni l'immagine del Papa per cui la Chiesa era un luogo corrotto. Chiaramente il Papa non è molto felice di questa contrapposizione e quindi lo fa scomunicare, lo fa spogliare dell'abito, quindi non è più un frate francescano e viene addirittura incarcerato. Riuscirà a tornare libero solo tre anni prima della morte, quando muore appunto Babbo di Pace VIII, poi morirà anche lui nel 1306. Cosa c'è da dire di Jacopone? I temi delle sue poesie? Sicuramente le sue laude sono molto diverse da quelle di San Francesco. San Francesco era un poeta di gioia, il cantico di Frate Sole in cui vengono celebrate tutte le creature nella loro bellezza, tutto il creato. In realtà Jacopone ha una visione negativa del mondo e della vita terrena e dell'uomo stesso, perché l'unica cosa che conta è Dio e tutto ciò che è materiale, tutto ciò che è corpo limita, è una prigione per l'anima e quindi bisogna fare in modo che queste cose materiali vengano svalutate per rivalutare invece lo spirito. Io ho inserito qui alcune strofe di una poesia che si trova anche sui manuali, molto significativa della poetica, cioè dell'ideologia di Jacopone. Dice in questa prima due strofe Signore, per cortesia, mandami la malsania, a me la freve quartana, la contina, la tersana, la doppla quotidiana, con la grande idropesia. Signore, per cortesia, mandami la malsania, la lebra, una malattia, fai che mi venga la febbre quella di ogni quattro giorni, quella che è continua, quella che viene ogni tre giorni, quella che viene due volte, tutti i tipi di febbre, tutti i tipi di febbre e anche l'idropesia, che è questa malattia che comportava un gonfiore di alcune parti del corpo. Poi a me venga mal di dente, mal di capo e mal di ventre, lo stomaco dolor pungenti e in canna la squinanzia. Sarebbe a me venga mal di denti, mal di testa e mal di pancia, dolori pungenti allo stomaco e in gola l'angina, che era un'infiammazione. Hai al fegatore scaldato, la melza grossa e il ventre inflato e lo polmone si è amplagato con gran tosse e parlasia. Qui, insomma, continua l'elenco di questi dolori fisici, potete vederli sullo schermo, nella parafrasi che trova da destra, insomma, per capire. In una storia successiva chiede la cecità, la mutezza, cioè l'essere muto, la soluzione, l'ordità, la miseria e la povertà, quindi malanni del fisico, ma anche condizioni negative di vita e anche calamità, come vediamo in questo verso 47, gelo, grandine e tempesta, fulmini, eccetera, eccetera, tutte cose appunto che lui chiede di ricevere a Dio. Addirittura ai demoni infernali che mi siano mandati come infermieri, che mi facciano subire quelle sofferenze che ho meritato con la mia malvagità. Dice, parafrasandolo. E in fin del mondo alla finita si immeturi questa vita e poi alla scivirita dura morte me sedia, cioè fino alla fine del mondo così duri per me questa vita e poi alla separazione dell'anima dal corpo, ciò che lui definisce scivirita nel testo, mi venga data una dura morte. E questa è la strofa conclusiva. Signore mio, signor meo, dice, non m'è vendetta qui spiega il motivo di questa richiesta. Tutte queste cose, dice, signore mio, non sono tutte queste cose che ti ho chiesto non sono una vendetta. È quello che mi merito perché io ti ho ucciso a tradimento. In che senso? Dunque, diciamo che l'ideologia cristiana del Medioevo è quella di oggi tutt'ora è che Cristo, cioè Gesù di Nazareth, è stato ucciso a causa della cattiveria degli uomini, ma di tutti gli uomini, perché Cristo è morto per tutti gli uomini. Quindi Iacopone chiede a Dio di subire le peggiori sofferenze del corpo per elevare lo spirito. Questa è l'idea dell'ascetismo medievale, cioè il fatto che le maggiori sofferenze del corpo e nella vita terrena portassero l'anima a splendere. Un'ideologia molto diversa da quella di noi moderni, ma fortemente radicata nel Medioevo, che è il periodo che appunto stiamo studiando.